Ex calciatore di Serie A, nonché uomo di spettacolo, Stefano Bettarini. Sono nelle vostre mani. Com'era Stefano Bettarini da ragazzo, da bambino? Stefano era un bimbetto che era molto tremendo. Ho iniziato a giocare nella piazzetta della chiesa. Ricordo queste grandi partite fatte davanti a questa chiesa e ci divirtevamo come un pazzo. Tu avevi un idolo. Ogni calciatore che inizia, io guardavo quelli nel mio ruolo e all'epoca nel mio ruolo c'era Paolo Maldini. Poi ovviamente ho avuto tanti altri campioni a cui rubare qualcosa. Per un obiettivo per forza bisogna fare sacrifici.